Servizio a largo raggio effettuato sulle spiagge della penisola sorrentina, dei carabinieri della locale compagnia, con il contributo fondamentale di personale in borghese, o meglio dire, in costume. Sì, perché militari armati di asciugamano e ombrelloni si sono mimetizzati tra i villeggianti e hanno così potuto osservare da vicino i movimenti sospetti. Diversi uomini e le donne che con il supporto dei colleghi in divisa pronti ad intervenire hanno garantito il rispetto delle regole comuni in modo discreto. Durante le operazioni è stato denunciato a piede libero un quindicenne napoletano trovato in possesso di un coltello a serramanico. Una decina i ragazzi segnalati alla prefettura, che sono stati sorpresi mentre fumavano hashish o marijuana, non curanti del fastidio arrecato ai vicini bagnanti. Al termine del servizio, che verrà ripetuto anche nei prossimi giorni, sono state identificate 135 persone. Anche il servizio, che verrà ripetuto anche nei prossimi giorni, non curanti del servizio, che verrà ripetuto anche nei prossimi giorni. Grazie. Grazie.